Sulla SP27 in via Santa Maria Amato a Capriglia in settimana si è verificata la caduta di un albere di un pino secolare che da tempo stavano su proprietà privata. L'amministrazione comunale già negli anni addietro ha anche reiterato negli ultimi mesi un'ordinanza sindacale alla proprietà di messa in sicurezza. Purtroppo non si è fatto in tempo, si era in attesa di ricevere le opportune relazioni da parte dell'agronomo sulla staticità degli alberi, soprattutto per non prendere una decisione affrettata, però nel frattempo si è verificata la caduta di un primo pino. La proprietà privata ha incaricato la ditta Matteo Napoli di Baronissi per la rimozione degli alberi e volevo fare un aggiornamento per rassicurare i cittadini che tra l'altro sono stati informati attraverso i canali istituzionali anche per quanto riguarda il trasporto pubblico locale e quello che Bus Italia ha messo in campo capendo e comprendendo logicamente le difficoltà nel poter servire la linea, soprattutto 22, ma si è garantita anche con un servizio navetta verso il liceo di Baronissi, ma soprattutto un ringraziamento particolare alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco della provincia di Salerno che sono intervenuti e soprattutto anche al Comune di Baronissi che è a confine con la frazione di Capria. Abbiamo installato anche sul territorio di Baronissia l'altezza di Via Vigna che è molto utile in questi due giorni di chiusura della strada per l'utilizzo della strada alternativa, un impianto semaforico. Logicamente l'ordinanza di chiusura strada che riguarda tra l'altro una strada provinciale è comunicata a tutti gli enti preposti, in particolare anche al 118, quelle che possono essere le forze dell'ordine del territorio, soprattutto per i percorsi alternativi che si devono adottare in caso di emergenza. La ditta Napoli mi ha comunicato ufficialmente che ha finito l'opera di abbattimento degli altri treppini interessati, nella giornata di domani ci sarà solo l'opera di pulizia e di rimozione di quelli che sono i resti degli alberi che sono stati abbattuti e quindi contiamo, massimo nella giornata di martedì, di riaprire al transito velicolare ASP 27 in Via Santa Maria Amato. Per quanto riguarda il plesso scolastico di coperchia, dal 1980 non veniva cambiata la caldaia del riscaldamento del plesso della primaria, mentre per quanto riguarda l'infanzia del plesso di coperchia c'è una caldaia autonoma e dopo 40 anni di meritato servizio è andata in pensione, questa caldaia ci ha lasciato proprio nel momento più freddo dell'anno. L'amministrazione comunale, grazie soprattutto all'impegno dei genitori, della dirigente scolastica, dell'assessore alla pubblica istruzione, che ha sempre una forte attenzione a quelle che sono le problematiche della scuola, e al presidente del consiglio d'istituto, Giuseppe Versano, ci siamo coordinati per trovare una soluzione temporanea, momentanea, di allocare le otto classi, sette classi della primaria di Pellezzano presso il plesso scolastico di Via Mendola, completamente riscaldato, adeguato per gli spazi in questa settimana di lavoro e nel frattempo la ditta di manutenzione del comune, con un ingegnere incaricato proprio per quanto riguarda le installazioni e l'efficientamento energetico di strutture pubbliche, ha provveduto ad adeguare innanzitutto i locali caldaie, quindi rendendoli a norma, visto che non erano stati fatti negli anni nessun intervento di miglioramento, l'amministrazione comunale tra l'altro con l'incarico conferito all'ingegnere, sta cercando anche di adeguare completamente la struttura, abbiamo ordinato la caldaia e contiamo nei prossimi giorni di installarla, logicamente installare una caldaia non significa come avviene a casa, chiamare il collaudatore, viene, installa e va via, si tratta di un edificio scolastico dove ci vuole senso di responsabilità che è occolto nei genitori, perciò li voglio ringraziare perché i genitori hanno ben compreso anche la pericolosità ma soprattutto l'efficacia dell'azione amministrativa dell'amministrazione comunale di cercare di far continuare la didattica in questi giorni ma soprattutto di dare un ambiente riscaldato al benessere degli studenti che è il nostro faro di attenzione soprattutto nell'azione amministrativa che ci ha contraddistinto, quindi queste due problematiche sono entrambi in via di risoluzione e mi faceva piacere questa mattina dare delle informazioni più precise e più dettagliate alla cittadinanza onde evitare sterili strumentalizzazioni.